Chi è che me l'ha detto pure... C'è l'accesso a Gegge se le fa dare al campo. Che al campo li hai dato esageratamente? Eh, ma al campo hanno le spina. Ok. Ce le danno di più lì al... Va, va, va che tra poco scoreggio. E scoreggio! Ha scoreggiato! Fermentato in mezzo alle biciclette, tra l'altro.